caro amiche in questo tutorial ho voluto fare un qualcosa di diverso andiamo a vedere anche poi il filato era questo diciamo che è un piccolo scialle di quelli piccoli a sciarpina che possiamo mettere sul collo ne ho realizzati tantissimi triangolari e ho voluto fare qualcosa di diverso stondato diciamo come una mantellina ma piccola dove l'andiamo avvolgere sul collo e le punte le portiamo avanti come ho fatto tantissimi tutorial di questo genere ma questo è completamente diverso ma ho voluto scegliere il punto granny visto che non avevamo mai fatto una lavorazione del genere ha degli aumenti centrali poi andiamo vi vado a spiegare prima di iniziare il tutorial proprio per memorizzare bene il punto e poi ho fatto degli aumenti proprio vedete sulle punte perché va a girare un pochino vedete va a girare in questo modo in maniera che non resta dritto ma se non volete volete che resta dritto resta proprio un mezzo cerchio basta semplicemente non andare a fare poi gli aumenti proprio alla parte diciamo ecco qui d'inizio e la parte di fine per cui ogni 10 ho fatto 10 ho fatto gli aumenti e poi 1 2 3 4 gli aumenti ma adesso ve lo spiego in maniera che potete anche variare come vedete bellissimo con un solo gomitolo diciamo arriva sui 135 140 perché poi cede un pochino arriva fino ai 140 di lunghezza e la larghezza andiamo subito a vedere ecco qui adesso lo vado a prendere solo 34 cm devo dire che proprio una sciarpina carinissima veloce da regalare assolutamente a natale anche chi è allergico allergico alla lana possiamo utilizzare questo fantastico che già vi avevo fatto vedere questo fantastico filato il tenerezza stampato questo è il color deserto già in molte l'avete preso e vi faccio vedere anche delle varianti se non trovate il colore ma è veramente molto bello ma ci sono anche le varie le varianti con un pochino più un pochino più di rosso di bordeaux che adesso va tantissimo di moda voi scegliete il vostro colore questo è 100 per cento agrilico sono 100 grammi 380 metri si consiglia l'uncinetto 4 infatti vado a lavorare con l'uncinetto 4 ha delle sfumature meravigliose dal diciamo questo è più un carta da zucchero del beige del verde del lilla del viola molto particolare ma se vogliamo prendere un solo gomitolo questo viene venduto in una confezione da 500 grammi possiamo andare a prendere abelia abelia è lo stesso lo stesso filato adesso vi faccio vedere un attimino diciamo che allo stesso filato lo potete sostituire potete prendere abelia unito e ci sono tantissimi colori e prendere un solo gomitolo ma potete prendere anche il tenerezza lux se vogliamo fare qualcosa di luccicante prendiamo una confezione da 500 da 500 grammi riusciamo a realizzarne cinque oppure prendiamo quello sfuso che abelia se non sbaglio e abelia sempre lux e possiamo prendere i gomitoli insomma di diverso colore perché con un solo gomitolo si realizza tranquillamente questa sciarpina che mi piace tanto vi ho dato anche le varianti così potete scegliere il colore che preferite adesso passiamo subito alla spiegazione della nostra sciarpina e al tutorial allora andiamo a capire prima gli aumenti prima di iniziare e con il tutorial allora è semplicissimo proprio per memorizzarlo quando andiamo a lavorare ovviamente uno scialle per quanto riguarda appunto granny o il pannello insomma siamo abituati a lavorarlo in un certo modo sia gli aumenti che le diminuzioni qui per realizzarlo in questo modo che adesso poi andiamo a finire insieme dobbiamo fare semplicemente degli aumenti ma sempre allo stesso posto andiamo adesso a vedere gli aumenti in maniera che andiamo a lavorare questo diciamo scialle mantella mantella scialle come lo vogliamo chiamare o sciarpa tonda semitonda ecco andiamo a capire dove dobbiamo fare gli aumenti in maniera che noi lavoriamo in tutta tranquillità quando iniziamo a fare il primo aumento aumento centrale poi andiamo a fare il giro lo chiamo giro anche se è un semigiro allora andiamo a fare senza aumenti adesso da qui in poi in quello successivo andiamo a fare sempre la stessa cadenza cioè entriamo a lavorare l'aumento e l'aumento laterale e poi vi dico quanto deve essere distante l'uno dall'altro quando abbiamo fatto questi aumenti e abbiamo fatto poi quello centrale da cui si ripete per cui andiamo a lavorare quello centrale eccolo qui che è in corrispondenza e poi senza poi andiamo a lavorare quelli laterali poi andiamo a lavorare quello centrale e poi senza per cui si alterna che dopo quello centrale abbiamo un giro giro semi giro ovviamente senza aumenti per cui è facilissimo quando andiamo a lavorare il primo centrale non abbiamo nessun aumento iniziamo quelli laterali per cui andiamo a lavorare il primo punto andiamo a fare l'aumento e l'aumento e poi andiamo a fare quello centrale senza perché dopo quello centrale e senza non dobbiamo fare nulla rifacciamo quelli laterali che devono essere in corrispondenza vedete in corrispondenza potete mettere dei marca punti vado a lavorare quello centrale e poi senza per cui la sequenza è sempre la stessa lavoro quelli laterali lavoro quello poi centrale nella giro successivo senza questo perché ve lo dico in maniera che quando andiamo a lavorare dobbiamo stare assolutamente tranquilli di aver memorizzato il punto ma ma andate avanti e indietro con il tutorial io per realizzare questo diciamo questo aumento queste codine in maniera quando andiamo a avvolgerlo sul collo sia più comodo ma non dritto sino sarebbe arrivato alla lavorazione dritta ma io non la volevo dritta cosa ho fatto cosa ho fatto ho proseguito fino a nove giri al decimo ho fatto l'aumento qui indipendentemente da quello che c'è al centro io dopo quando ho iniziato a fare l'aumento qui do al decimo giro 123 aumento 123 aumento 123 aumento 123 aumento 123 aumento ma l'aumento solo all'inizio e alla fine che andiamo a vedere nel tutorial e qui resta sempre uguale per cui queste sono due cose diverse sembra complicato ma non lo è assolutamente cercherò anche di scrivere la penna e poi lasciarlo lasciarlo nel blog in maniera che riusciamo poi a comprendere come no come l'ho pensato per gli aumenti laterali però potete fare tutte le modifiche che volete allora adesso che ho fatto tutta la spiegazione in maniera che l'avete ben memorizzato partiamo subito con il tutorial adesso per iniziare il nostro chalet vado ad utilizzare un uncinetto 4 ma potete anche fare con uncinetto 4 e mezzo perché devo dire che viene abbastanza compatto valide se avete proprio la mano stretta io l'ho molto morbida potete iniziare anche con uncinetto 4 e mezzo allora adesso vado ad avviare 14 catenelle 5 6 7 8 9 10 11 12 13 e 14 una volta realizzate le 14 catenelle contando dall'alto 12345 entro nella quinta catenella e vado a lavorare 3 maglie alte la prima la seconda e la terza realizzo una catenella conto di nuovo 123 alla la terza e vado a lavorare 3 maglie alte la prima la seconda e la terza catenella e 1 2 e 3 entro sempre nella terza e vado a lavorare di nuovo 3 maglie alte ora vado a realizzare di nuovo una catenella entro nell'ultima maglia cioè l'ultima catenella e vado a realizzare 3 maglie alte ora dobbiamo diciamo tornare indietro ma per tornare indietro devo andare a realizzare una catenella una doppia maglia alta due volte il filo sull'uncinetto entro sulla stessa maglia e vado a lavorare 1 2 seconda a soli e vado a chiudere e abbiamo concluso la parte centrale ora inizia l'aumento per cui 3 catenelle più una di separazione per cui sono quattro totali volto il lavoro entro proprio nel primo vedete primo archetto e vado a lavorare 3 maglie alte catenella noi dobbiamo far conto che qui poi abbiamo la parte centrale vedete ok adesso entro in quello successivo vedete lascio le 3 maglie alte vado in quello successivo 3 maglie alte stiamo lavorando il punto granny catenella adesso qui siamo alla parte centrale la parte centrale andiamo a fare il nostro primo aumento per cui 3 3 maglie alte mettete poi un marca punti centrale per fare un punto di riferimento se preferite una catenella e sullo stesso punto andiamo a lavorare 3 maglie alte picciano un pochino il filo lo vado a sistemare subito eccolo qui allora abbiamo la seconda e abbiamo la terza catenella come vedete abbiamo realizzato il nostro primo aumento centrale cosa vi ho detto all'inizio quando andiamo a lavorare quello centrale il giro successivo e senza aumenti per cui io parlo delle delle linee perché poi laterale insomma andiamo a lavorare il nostro punto adesso vado in quello successivo realizzata la catenella vado a lavorare 3 maglie alte eccole qui catenella vado in questo archetto dove ci sono le 4 catenelle entro dentro e vado a lavorare 3 maglie alte la prima la seconda nella terza catenella catenella doppia maglia alta due volte il filo sull'uncinetto entro sempre sullo stesso punto ma entro nella terza catenella proprio per andare a fissare bene il nostro bordo entro nella terza catenella il lavoro la mia maglia altissima su due asoline su due asoline e vado a chiudere e abbiamo realizzato il nostro diciamo la nostra seconda seconda chiamiamoli giri adesso ripartiamo da capo sempre si parte da capo con quattro catenelle sono tre corrisponde una maglia alta e una catenella di separazione prendo il filo entro sempre qui non partite con quello dopo le maglie alte perché dopo vi viene ovviamente male il lavoro e mi raccomando sull'inizio e sulla fine se avete dubbi mettete il marca ponti proprio qui centrale in maniera di non sbagliare se avete dei dubbi per cui catenella adesso vado a lavorare tranquillamente il punto grandi su ogni catenella passo sotto con uncinetto vado a lavorare tre maglie alte e una catenella di separazione vado sul punto successivo faccio la stessa cosa sempre 3 catenelle 3 scusate 3 maglie alte 3 maglie alte assolutamente e una catenella adesso siamo qui dove c'è l'aumento vado a entrare proprio al centro sino poi l'aumento non ce n'è più per cui per fare l'aumento entro proprio nella parte centrale vedete eccolo qui e qui vado a lavorare 3 3 maglie alte niente voglio dire per forza catenelle 3 maglie alte con una catenella e proseguo fino al termine di questo giro sempre punto granny catenella vado in quello successivo ancora ecco qui catenella quando vado a lavorare l'ultimo punto ricordatevi che devo entrare dove ci sono le quattro catenelle proprio al finale salto le 3 maglie alte per cui 3 maglie alte in questo modo una catenella e una maglia altissima entro nella terza catenella ci faccio entro proprio dentro con l'uncinetto e vado a lavorare la mia maglia altissima e abbiamo terminato anche questo giro per iniziare 4 catenelle e volto il lavoro allora abbiamo fatto quella centrale quando abbiamo realizzato l'aumento centrale quello successivo non ha nessun aumento adesso dobbiamo andare a fare quelli laterali per fare quelli laterali vado prima a lavorare vedete qui al centro il mio punto per cui tre maglie alte e catenella eccolo qui ora che abbiamo fatto le tre maglie alte e catenella quello successivo subito quello successivo c'è l'aumento per cui ne realizziamo uno col punto granny vado in quello successivo faccio l'aumento come realizza l'aumento bene vado a lavorare tre maglie alte possibilmente fatte bene tre maglie alte eccole qui una catenella e sullo stesso punto andiamo a realizzare tre maglie alte ecco qui e noi abbiamo fatto il nostro il nostro aumento allora adesso io vado a lavorare tutto col punto granny qui alla fine vado a lavorare il punto come all'inizio ma qui devo fare l'aumento per cui cosa faccio vado a prendere un marca punti se proprio non lo ricordo qui c'è l'ultima maglia che dobbiamo andare a lavorare e qui ci sarà l'aumento per cui l'aumento e questo punto e qui ci saranno sempre gli aumenti perché vedete da qui vi faccio vedere risultano sempre gli aumenti sullo stesso punto potete mettere un marca punti anche qui mettete un marca punti e poi lo togliete quando lo trovate proprio in linea per cui adesso vado a lavorare fatto la catenella la catenella sempre non la dimentichiamo vado a lavorare ovviamente fino al punto che tanto si ripete il punto noi che vado lentissima vado piano piano ma in modo di velocizzare un pochino e catenella vado al punto successivo perché soli potenti ripeto sempre lo stesso punto e andiamo a vedere l'aumento catenella e adesso rallento un pochino e andiamo a fare l'aumento catenella qui c'è l'aumento tolgo marca punti e vado a lavorare 3 maglie alte per l'aumento catenella e ancora sullo stesso punto 3 maglie alte messo ve le faccio vedere è completo ecco qui abbiamo fatto l'aumento da questa parte e dalla porta opposta catenella prendo il filo e vado a concludere per cui 3 maglie alte che poi andiamo a concludere sempre nello stesso modo catenella e chiudiamo con una maglia altissima entrando nella 12 nella terza catenella su due a solini due a solini e vado a chiudere e abbiamo fatto il nostro momento adesso io devo fare l'aumento centrale qui c'è l'aumento centrale no lo vedete eccolo qua io devo fare l'aumento centrale sempre in corrispondenza ovviamente potete dove dove marca punti e lo mettete ovviamente quando andate a lavorare vi posso dire che lo trovate lo trovate per cui dopo i laterali di aumento c'è quello centrale e poi nessun aumento sempre così la sequenza adesso lo rifacciamo insieme 1 2 3 4 volto il lavoro e vado a lavorare il punto sempre nel primo archetto eccolo qui prima maglia seconda e terza catenella punto successivo vedete qui ci dobbiamo andare a lavorare dobbiamo saltare a lo dobbiamo lavorare assolutamente entro e vado a lavorare 3 maglie alte io vado veloce in questo punto perché comunque maniere che vedete tutto il tutorial poi tornate indietro ma qui si ripete sempre lo stesso punto catenella sempre ora vado a lavorare qui centrali perché dove c'è l'aumento dobbiamo andare a lavorare il punto centrale assolutamente 1 2 3 catenella punto successivo 3 maglie alte catenella ancora punto successivo sempre dove c'è la catenella vado a lavorare 3 maglie alte catenella ora mi trovo al punto centrale si ripete tutto da capo tolgo il marca punti ma poi vedete che non ci sarà bisogno di metterlo più perché si vede però comunque lo mettiamo e vado a lavorare l'aumento l'aumento sono tre maglie alte una catenella e tre maglie alte e abbiamo fatto il nostro aumento catenella vado in quello successivo e vado a lavorare il punto per cui quello che vi ricordo che il giro successivo non c'è l'aumento perché ho detto quando realizziamo quello centrale non c'è più momento e sto andando avanti per farvi vedere la chiusura catenella e vado a lavorare qui al centro mi raccomando lo abbiamo fatto nel giro precedente l'aumento centro proprio al centro perché sennò poi dopo l'amento non abbiamo fatto più catenella entro sempre nello spazio successivo nella catenella non saltateli mi raccomando sino poi alla fine non viene più il modello che vi sto facendo vedere ma ne viene un altro e catenella entro mi raccomando anche qui se non lo vedete vi dimenticate lavorate con i marca punti assolutamente che può succedere guardare un po di tv o mai altissima entriamo nella terza o ci ci distraghiamo un pochino succede vado allentare un pochino in questo modo entro subito nella terza catenella e vado a lavorare la maglia altissima e vado a chiudere sempre 4 catenelle di avvio allora io ho fatto l'aumento centrale adesso cosa devo fare vado a lavorare senza aumenti perché come vi ho detto prima non c'è dopo quello centrale non dobbiamo fare gli aumenti in quello successivo adesso se io ve lo faccio rivedere di nuovo vi creo confusione nel tutorial perché voi potete tornare indietro esattamente nel questa è la prima nella seconda nella terza riga cui dovete ripetere semplicemente la terza la quarta e la quinta riga la terza la quarta la quinta riga la terza la quarta la quinta riga vi lascio un asterisco quando arrivate a questa è la parte centrale abbiamo da qui da questo punto 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9 per cui vedere 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9 alla decima c'è l'aumento che adesso io vi farò vedere da questa parte da questa parte vi faccio vedere com'è l'aumento la mente semplicemente questo che lo ripetiamo adesso ve lo faccio vedere lo ripetete al decimo alla decima decimo giro questo ve lo faccio vedere anche se non è il decimo giro ma ve lo faccio vedere da qui così avete tutto diciamo il tutorial bello compatto quando arrivate facciamo adesso il caso che siamo arrivati al decimo giro siamo arrivati qui come facciamo a fare l'aumento vado semplicemente a lavorare le quattro maglie sempre le quattro catenelle entro dentro e qui c'è il punto ma dobbiamo fare l'aumento l'aumento come lo faccio vado a fare 3 catene 3 maglie alte devo sempre catenelle una catenelle e 3 maglie alte sullo stesso punto tutto qui niente di particolare l'aumento è questo 3 maglie alte una catenella e 3 maglie alte non dobbiamo fare altro che fare questo per cui catenella e vado su quello successivo adesso io mi vado a fare tutto il giro vi faccio vedere anche la chiusura è semplicemente questo io ho iniziato ho iniziato dalla decima decimo giro voi potete iniziare anche prima se volete lo potete iniziare anche prima se volete io l'ho fatto ogni 3 1 2 3 aumento 1 2 3 i giri erano normali per quanto riguarda l'inizio ma non cambia nulla dalla parte centrale è un po macchinoso ma poi alla fine risulta facilissimo adesso vado avanti vi faccio vedere la chiusura tanto qui non devo fare se vi capita l'aumento all'inizio può essere che vi capita anche l'aumento la parte centrale non è nulla questo fa se diciamo fa se indipendentemente da quello centrale lo voglio ripetere proprio se avete qualche dubbio adesso proseguo e vi faccio vedere insomma come vado a realizzare l'aumento sulla sulla fine ecco qui sono proprio al termine l'aumento lo vado a fare proprio qui vedete eccolo qui dove prima facevamo chiusura andata a fare l'aumento per cui 3 maglie alte sullo stesso punto una catenella e 3 maglie alte questo è il nostro aumento catenella dobbiamo poi andare a chiudere vado a chiudere nella terza 123 terza catenella la maglia altissima come abbiamo sempre fatto devo mettere bene mi è sfuggito qua due volte il filo entro nella terza e vado a fare su due su due e vado a chiudere e questo è il nostro il nostro aumento vedete questo abbiamo fatto il nostro aumento e riprendiamo da capo al nostro momento lo facciamo dopo 123 giri poi faccio l'aumento per cui 123 e poi aumento e qui resta sempre tutto quale delle come cambia quando andiamo a prendere il filato sfumato come cambia completamente vedete completamente la qui si inizia col base e qui si è iniziato con il viola e poi lilla per cui cambia proprio diciamo i colori allora io spero che sono stata chiara e super facile semplicemente dobbiamo memorizzare su questi passaggi l'ho ripetuto tantissimo non vi ho voluto confondere con il tutorial in maniera che potete tornare indietro vi lascio poi scritto tutto in maniera che potete tornare a ma e indietro e avanti senza nessun problema ho terminato sono super contenta la lascio così circa un metro e quaranta 34 cm di altezza mi piace tantissimo la metto sul collo come vi ho fatto vedere in foto le punte le vado proprio a nascondere io poi ne ho realizzati tanti diciamo con la punta questi shell ma questo è stondato mi piace tantissimo da regalare assolutamente se vi piace il lurex potete scegliere il filato sia quello insomma con il lurex dentro sia bella oppure potete prendere il tenerezza tenerezza lux la confezione da 500 grammi potete scegliere insomma ci sono tante varianti basta scegliere il colore di filati discount io vi saluto e ci vediamo ai prossimi tutorial sotto vi lascio tutti i link sia dei filari e di e anche delle informazioni con un solo gomitolo andiamo a realizzare questo splendido splendido sciarpina splendida sciarpina ma baci torniamo a realizzare questo